Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Puglia, vincitore del TANAMOLE TIGRI di Brno. Allora, come ci si sente subito dopo la vittoria Puglia? Per me era un sogno già salire sul tavolo televisivo. Poi mi hanno detto che eravamo 9, quindi dovevo la scena persona. Lì mi è calato un po' armito. Però invece piano piano, attesi, diventavo al quinto posto, al secondo... Un sogno, un sogno, non so che dire in questo momento. Ecco, so che hai iniziato a giocare da appena tre mesi, giusto? Sì, da tre mesi, in una sala con gli amici, grandi amici. Ho vinto questo ticket per venire qui, penso una ventina di euro. Che dire, per me già venire qui era tanto. So venuto, tutto pagato, mi sono divertito tantissimo. E penso che sarebbe... cioè che è stato il massimo. Non so cosa chiedete più oggi. Mi sento... Progetti per il futuro? No, per il futuro... Mi piace giocare a poker, mi piace a livello agonistico. I tornei così, soffili. Spero... il mio sogno sarebbe di diventare un pro. Oggi mi sentivo che non potevo perdere e non ho perso. Vediamo in futuro che cosa succede. Ti ringrazio e ci vediamo quindi ai prossimi appuntamenti live. Svegliamo. Ciao. . . Grazie a tutti